Buon pomeriggio amici e amici! Come va? Come state? Spero tutto bene! Ma prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! Oggi sono super contenta, mi sono svegliata, molto... come si può dire? Molto zen, contenta, rilassata, in pace. Quasi sentivo tipo il rumore delle cascate, non lo so, così, molto equilibrio zen. Infatti il pensiero di oggi è... Creature incantate! Creature incantate! Stamattina mi sono svegliata con in mente un libro che mi era stato regalato quando ero piccina. Avevo, se non erro, tipo 4 anni e mezzo, 5. E forse me lo sono ricordata, mi è venuto in mente, a causa del sogno incredibilmente particolare che ho fatto stanotte. Praticamente stanotte passeggiavo in un supermercato dove andiamo... Nel sogno! Sì, nel sogno, in un supermercato dove andiamo di solito a comprare il pane, a comprare insomma i generi alimentari. E di solito con i miei figli la tappa fissa quando compriamo il pane è scappare, io compresa, un attimo nella zona dei giornali e dei libri. Sapete che io amo tantissimo spacchettare insieme a voi i giornali dell'edicola, quando hanno un omaggio carino. E quindi l'aiuto regista di solito è il primo che si fionda perché ama trovare lui in primis, diciamo, la cosa da spacchettare, no? E poi lui ha tipo il radar, quando ci va correndo lo trova sempre. E quindi passeggio di solito in questa piccola corsia che non hanno neanche tutti i giornali, ne portano solo alcuni e dietro hanno i giornali e dietro hanno i libri. Di solito l'aiuto regista è di qua che guarda i giornali e l'opinionista è dall'altra parte che guarda i libri perché lui ama tantissimo leggere i libri, benché sia piccolino, no? Quanti anni ha? Ricordiamo che non ha ancora compiuto otto anni perché lui è di novembre e quindi mi raccomando, ricordiamoci e ricordatevi per fargli gli auguri. Che giorno li compie? Il 30 novembre. Il 30 novembre. E quindi è già là tutto emozionato, lui ci tiene un sacco il suo compleanno perché purtroppo non è felice che sia nel periodo, diciamo, invernale però come tutti i bambini lo attende tantissimo. Non gli piace neanche che sia novembre perché tutti gli dicono ormai che c'eri, potevi nascere a dicembre e lui, eh grazie, come faccio? Cioè, e quindi si è sempre sentito dire inutilmente e ci tengo a dirlo comunque e non da me questa cosa che per quanto l'ha sempre negli anni un po' influenzato quindi lui ci tiene un sacco che si ricordino, ci tiene molto più di tutti noi messi assieme che ci ricordiamo e dice ma la torta inizia tre mesi prima a dirci che torta vuole non tanto il regalo perché comunque sapete che io se hanno dei piccoli desideri di giocattolini glieli prendo comunque man mano e cerco di farli capire che comunque devono un po' conquistarli, no? I giocattoli. Non ne hanno in una maniera esagerata, diciamo, conforme al periodo in cui viviamo perché quando ero piccola io averne tre era già un miracolo quando erano piccoli i nostri genitori averne uno era un miracolo quando erano piccoli i nonni niente e quindi proporzionalmente adesso ne hanno di più, no? Forse ecco, è sbagliata la proporzione quando erano i nostri genitori piccoli tre era un miracolo e noi una decina perché siamo realistici anche noi non siamo cresciuti con nulla totale però ci pare sempre poco rispetto a quello che hanno ora i giovani d'oggi anche perché hanno un potere d'acquisto le persone che è più elevato perché certe cose costano meno, si trovano anche in offerta c'è possibilità di comprarli in più posti anche online e anche in offerta tipo certe bamboline, in alcuni periodi Amazon te le tira praticamente in fronte come le carote al supermercato e quindi si riesce a comprare, no? delle cose, basta che non ti servano per quel giorno preciso e per questo motivo che io gli dico è bello anche organizzarsi un attimo e pensare in anticipo è vero che per il compleanno ognuno dei miei figli ha sempre un regalino da scartare ovviamente da parte mia anche perché di solito comunque non è che ne arrivano altri quindi arriva comunque il mio che non è una cosa esagerata diciamo, no? quella che cucca di più ultimamente è la nostra Regix, ok? è la regista perché essendosi appassionata anche lei soprattutto al mondo della skin care indica quello che lei amerebbe provare e viene subito accontentata da me perché io amo tantissimo, no? tutto il mondo beauty, il mondo skin care, make up, eccetera, eccetera e quindi sono io mossa da questa cosa e gli dico ma certo proviamolo oppure lo prova lei se io ho ancora i rimorchietti ahimè da provare non vedo l'ora di finire questi rimorchietti e non mi se... potevo dire li do e avete perfettamente ragione ma dovevo essere tra virgolette la mia anima doveva essere un attimo punita perché così imparo a non averli utilizzati, no? in tempo, man mano perché mi dispiaceva e questa cosa di dispiacermi io purtroppo nella mia vita l'ho fatta anche nell'ambito delle scarpe delle borse dei vestiti mi dispiace usarlo allora lo tengo lì e lo guardo ma non è questo mustagnoio, ok? non è uno spaventapasseri io devo imparare a capire che se una cosa mi piace è meglio utilizzarla piuttosto che poi comunque se passa di moda che sono passati 30 anni ma chi è che lo usa più? soprattutto l'elasticità dei vestiti si rovina le scarpe si crepano, no? le suole si rimangono la 20 anni e poi comunque anche se io non sono una fashion addict si dice così scusate la pronuncia che fa cagher per dire cosa? è che non sono una che segue la moda passo passo tipo questi, ok, no? mi piacciono se non mi piacesse io sta manica sbuffo non me la sarei mai messa però mi ricorda un sacco Anna dei capelli rossi e poi io amo le maniche a sbuffo che avevano tipo nell'ottocento ma sono nata amandole addirittura da piccola io ho avuto un periodo che voi direte sarà una psicosi non ve lo so dire però di stordimento quando ho iniziato a capire in che epoca ero collocata questo io non lo spiegherò mai alla mia testa però io ero convinta di non essere nell'epoca giusta e non mi sentivo a casa mia dicevo ma com'è possibile che io sono qua? dove sono le mie cose? ma dove sono capitata? e voi direte sarei caduta dal seggiolone è probabile, probabile però fatto sta che questa sensazione mi ha accompagnato per tutta la mia vita ma io penso che comunque ognuno di noi perché siamo magia ed elettricità abbiamo comunque una piccola missione la mia missione direte voi è quella di non spaccarvi le scatole e avete ragione di fare silenzio di tacere sì vi do ragione comunque la mia missione è probabilmente anche quella io penso di portare un po' di allegria mi sento un po' iridella arrivata da un'altra epoca sarò una viaggiatrice del tempo? chi mai lo sa? avranno fatto non lo so gli unicorni uno scherzo mi avranno catapultato in un'altra epoca questo non lo possiamo sapere comunque possiamo sapere che le maniche a sbuffo mi piacciono tantissimo io le amo alla follia e mi fanno sentire me stessa li avrei preferiti tipo con tutti i pizzi con tutte le cose proprio ottocentesche ma sarei risultata camminando in strada una persona in un periodo sbagliato ok? invece così prendo anche un sacco di complimenti ma che belle queste maniche ma come se alla moda e io evviva e quindi bene fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche qualcuno o qualcuna di voi ha mai avuto la sensazione di essere nell'epoca sbagliata perché chissà magari non è una sensazione solo mia magari più di uno ha provato prima o dopo nella sua vita questa sensazione io l'ho provata per l'arco di tutta la mia vita e poi ho delle storie un po' strane tra virgolette un po' curiose da raccontarvi ma questa è un'altra faccenda e sono legate anche al marito eh eh sì perché io l'ho trovato eh sì però quella è un'altra faccenda quella è un altro sogno come si dice in inglese quella è un altro sogno this is another dream quello that is another dream that 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 is another dream ok go fluent lasciamo perdere l'inglese che fa letteralmente schifo ma invece torniamo al sogno allora nel sogno passeggiavo appunto perché già mi stavo il credo mi stava deragliando scusate però mi sono accorta che incredibile per me che io mi sia accorta lo so siamo tutti commossi che io me ne sia accorta da sola va bene ok ritorniamo sari e passeggiavo nel sogno di stanotte nella corsia del supermercato dal lato libri e a un certo punto ho detto toh che bella questa copertina io che invece del titolo guardo il colore della copertina ci sta sono io ed era un lilla molto delicato abbastanza simile a quello che poi ho utilizzato oggi nell'ombretto era quasi un glicine bellissimo e c'era scritto grande nel titolo della copertina con anche un carattere io mi ricordo anche il carattere se lo vado a cercare riesco a riprodurre il carattere e la copertina del libro c'era il titolo lo posso dire uno spoiler magari tra vent'anni dieci anni non lo possiamo sapere c'è scritto ricordi come titolo del libro guardo sotto e c'era scritto il nome e il cognome vero che voi ancora non sapete ma a questo punto saprete penso a breve o prima o poi non lo so il nome e il cognome della regista e poi sopra c'era scritto tra parentesi la regista e io così ho detto ma quando l'ha pubblicato monella e non me l'ha detto e io l'ho scoperto lì e poi ho detto ah no è vero io smemorina anche lì è vero forse me l'avevano accennato e io non me ne sono accorta e poi ho detto e come ha fatto a pubblicare che io non so come si fa anche io voglio pubblicare un libro c'è un sogno stranissimo poi mi sono svegliata e mi è venuto in mente quando mi sono svegliata non di dirlo alla regista che non me ne fregava nulla gliel'ho detto dopo mi è venuto in mente il libro che mi avevano regalato quando avevo quattro anni e mezzo allora aveva delle pagine innanzitutto era grandissimo perché era così un formato che cos'è così è grande sarà a tre non lo so a tre probabilmente con le pagine molto grosse la copertina grossa e morbida e le pagine erano altamente non inquietanti però che ricordavano un libro molto antico era veramente bello io ovviamente non ce l'ho perché è in Sardegna se non l'hanno buttato spero proprio di no e c'erano era diviso in piccoli capitoli ogni capitolo era dedicato a una fata dei boschi e il titolo era le fate dei boschi mi piaceva tantissimo l'avrò letto tipo perché poi avevo cinque libri in tutto letto tipo un milione di volte quando ho imparato a leggerlo perché affinché non sapevo leggere guardavo le immagini perché c'erano dei disegni un pochino non stilizzati però con uno stile morbido retro e con dei colori molto tenui e la prima era la fata ciclamino quindi sono qua che cerco un po' di ricordarmi le altre perché gli voglio tanto dedicare un make up a ciascuna di loro probabilmente ne aggiungerò anche alcune inventate da me però la prima di questo libro era la fata ciclamino ovviamente non era truccata io mi ricordo che aveva il vestito che era fatta come fosse la gonna un ciclamino era bellissima era così carina ed erano un po' antipatiche dalla faccia e dallo sguardo e voi direte come sei tu no insomma non dite che sia e quindi mi è venuta in mente questa cosa e ovviamente il make up è molto sbrilluccicoso rispetto a come erano loro che non erano per niente sbrilluccicose ma io ho voluto dare un omaggio a queste fate un po' rivisitandole nei tempi miei di Lallix un po' come sono io un po' luccicante un po' sì piena di luce come fossi tipo la dea degli unicorni e non la dea delle dee di pollo no ok la dea degli unicorni la fata dei boschi più glitterata di tutti di tutte e quindi oggi così mi sento un po' la fatta ciclamino vediamo domani se mi cambia completamente il mood e mi sentirò mi sentirò tipo la dea degli zombie non lo so no ma non penso dopo la parentesi un po' halloween ora abbiamo la parentesi un po' più soft è già partita con angel ieri la parentesi più angelica diciamo così dedicata a delle creature radiose per andare anche verso al natale no con un po' di luce con un po' di speranza e soprattutto con la gioia nel cuore perché abbiamo bisogno di sorridere e di essere luminosi sia esteticamente scusate mi stavo strangolando sia esteticamente che all'interno dei nostri cuori tanta tanta luce la dobbiamo emanare soprattutto nel nostro spirito essendo sempre positivi nei limiti del possibile se poi ci succede qualcosa di brutto normalmente sfoghiamoci piangendo siamo tristi una giornata o due o quello che ci serve però poi bisogna cercare di trovare il nostro raggio di sole il nostro raggio di luce lo possiamo trovare dentro di noi oppure vicino a noi ma ci dobbiamo sicuramente provare cerchiamo di stare tristi il meno possibile lo so che fisiologicamente è impossibile non essere mai tristi io stessa mi sveglio piangendo tantissimi giorni del mese e quindi è normale però bisogna cercare dentro di noi quella forza e quella luce che ci permette di sorridere e di vivere con gioia i nostri giorni perché ognuno dei nostri giorni è importante e speciale e dobbiamo viverlo veramente come se fosse l'ultimo anche perché non si sa se in realtà la regista sta facendo un milione di scongiuri no ma non so io se questo sarà il mio ultimo giorno il mio ultimo video il mio ultimo saluto nel caso dovesse succedermi qualcosa comunque scriverai il team per salutare da parte mia e no perché io ho pensato cosa faccio poi non posso salutare a meno che io non prepari un video di saluto da caricare post mortem e perché io ci tengo capito si ho capito fatemi sapere se volete un video di saluto ma io non me la sento perché sinceramente lo trovo un po' macabra come cosa non faccio video da pubblicare post mortem però a meno che non ci sia un inghippo di caricamento e allora proprio quel giorno lì vi arriva dopo che sono andata e no e perché questa cosa la volevo dire prima o poi cioè salutate da parte mia e voi continuate a guardare i video anche se venga a mancare che io dall'assù vi guardo e sarò contenta ma perché oggi tutte queste cose mancano così perché mi è venuto in mente perché tanti anni erano passati da quel libro così velocemente era costudito in una scatolina del mio cuore tanti anni 40 perché avevo 4 anni quando me l'hanno regalato in un attimo ne passeranno altri 40 e ciao eh così la vita è un soffio ma non pensiamoci e unboxiamo le cose più carine del pianeta pronti e pronte parliamo di qualcosa di più allegro va che meglio è che purtroppo la vita è fatta anche di queste cose no di momenti un pochino più seri diciamo così però non ci pensiamo perché ancora è presto e chissà quantimila video ancora dovrete subire no ma so che vi faccio un pochino di compagnia dai quindi oggi abbiamo queste tre meraviglie io purtroppo non so se le proveremo perché hanno una R eh ma è la R di regista ah ecco perché la regista li ha ha deciso di comprarle perché ho detto vabbè forse vuole provare i prodotti di Mean Girl che sono comunque iconici e super in hype in questo momento questa ovviamente è la R di Revolution giusto? si sono di Revolution eh sì ok è la R di Revolution però io ho detto boh ma mi fa un po' strano perché io non è che poi ci vado in giro con sta R che mi dicono ma come hai rubato qualcuno che si chiama Roberta Rebecca Renata Renato anche Roberto eh eh Rinaldo non lo so tutti noi però la regista dice io sono la regista e quindi ho la R boh ci sta ci sta l'alix ha la L ok e quindi non poi è solo una R però non è che forse si può anche togliere però è bello è bello perché c'è la R non mi sfagiola tantissimo a me attaccarmi la R nella borsa però tu invece se te la attacchi sei la regista anche perché di quanti ti salutano dicendoti regista? eh sì abbastanza eh la chiamano proprio oramai la regista non so se è stato un bene o un male però insomma stiamo segnando un destino lo stiamo scrivendo nella pietra quali apriamo per primo mia dolcissima regista? quello che vuoi eh no puoi scegliere è solo due o tre belli non lo so partiamo numero uno numero due numero tre va bene dai numero uno questo vai ma prima dobbiamo dire cos'è Mean Girl vedete che qua c'è scritto on Wednesday we wear pink questo è il primo no? abbiamo detto da questo partiamo ok Revolution Beauty London questo innanzitutto che cos'è? un lip gloss included charm charm il charm è questo grazie l'avevamo capito Mean Girl ok è un film del 2000 l'abbiamo cercato su wikipedia perché io devo dire che forse l'ho guardato ma non me lo ricordo in questo momento bene mi sfugge infatti ho capito che è del 2004 quindi ne è passata acqua sotto i ponti e per il ventesimo anno gli hanno dedicato una linea make up film del 2004 diretto da Mark Walters lingua originale inglese paese di produzione Canada Stati Uniti d'America l'anno è il 2004 la durata è 97 minuti quindi non è una serie è un film solo lo possiamo recuperare in 4 e 4 8 quindi lo recuperiamo e poi ne parliamo assieme è comico commedia quindi mi potrebbe piacere lo riguarderò quindi se non è una serie è per questo che non mi ha diciamo che forse non me lo ricordo ah ma l'ho visto di sicuro è con Lindsay Loan la protagonista è un'attrice iconica bravissima che amo alla follia quindi sicuramente l'ho guardato ma non te lo ricordi forse ma non me lo sto ricordando io voglio essere sincera e onesta con voi se non me lo ricordo ve lo dico cioè poi ok lo recupero però io non me lo ricordo leggiamo senza spoilerare perché ormai cosa spoiler sono passati 20 anni chi l'ha guardato l'ha guardato e chi come me l'ha guardato non se lo ricorda o non l'ha guardato proprio vai lo guarda se gli interessa se no fa bene la sceneggiatrice Tina Fey attrice e autrice del Saturday Night Live ha scritto il copione del film basandosi sul libro Queen Bees e Warnabies di Rosalind Wise Men ok nel cast vi sono molti attori del Saturday Night Live come ad esempio l'interprete della madre di Regina ok ho clicato per vedere la foto Amy Puhler Puhel non lo so come si chiama ma perché non traducono anche nomi in italiano trama Cady Heron è una sedicenne tornata a vivere a Heavenstone dopo aver trascorso l'infanzia in Africa con i genitori zoologi ricercatori universitari all'inizio la ragazza trova difficoltà a farsi accettare nella scuola di North Shore i suoi primi amici sono Janice Jan e Jamie in seguito Cady cattura la lingua cattura torniamo in italiano cattura l'attenzione del gruppo delle Barbie che bello le ragazze più popolari della scuola tra cui non ero io di sicuro quando andavo a scuola Regina Georg o George Richen Weiner e Karen Smith ah Smith lo so queste incuriosite della nuova arrivata lo fanno sedere accanto all'oro a mensa mi permetto di dire immensa all'oro accanto all'oro a mensa a mensa immensa wikipedia ok lo stavo capendo seguitemi per altre correzioni incredibili Cady comincia a frequentare le tre ragazze raccontando a Janice i loro comportamenti stravaganti i loro comportamenti se c'è qualcosa che non si può dire lo censuro non lo dico raccontando ma non penso raccontando a Janice i loro comportamenti stravaganti e i loro segreti uno di questi è l'album Rosa un album dove le Barbie scrivono insulti e cattiveria ah non si fa monelle contro i professori e gli studenti della scuola Janice conosce bene la cattiveria di Regina che è stata la sua migliore amica fino a quando tre anni prima ha sparso la voce che Janice fosse da un'altra sponda umiliandola di fronte ai compagni di scuola non erano avanti in questo libro in questo film non vedo motivo di prendere in giro nessuno per questa cosa io basita scioccata e arretrato se prendevano in giro una persona no mi pare ovvio che debbano essere tutti uguali non ci vedo nessun problema comunque questo è un mio parere personale ovviamente e mi auguro anche di tutti intanto Keji si innamora di Aaron Summers ex di Regina il giorno di Halloween la ragazza scopre la vera perfidia delle Barbie quando invece di aiutarla a conquistare Aaron ho perso la riga Regina gli racconta menzogne su Keji e si rimette con lui ah capito la mica è una bella s t r o n z t a ok la detta giusta si si ok si potava dire così Keji con un no aspettate che non ci vedo Keji corre ma che lungo non si può leggere tutto è lungo un chilometro qua mi sono già scocciata ma dice tutta la serie non c'era una trama corta scusa ma come mai allora scorrendo qua mi sono accorta che non è il dono della sintesi neanche di quello che ha scritto qua su Wikipedia comunque è tutto un coso di alti e bassi di queste ragazze che hanno le loro beghe se così si può dire di amichette un po' tragicomico un po' si che si fanno i dispetti un po' come tante ragazze antipatiche che si credono no e quindi è un po' così alla fine forse finisce tutto bene quel che finisce bene io non me la sento di leggervelo tutto perché mica è per fare la come si dice la reaction al film quindi lasciamo perdere la lettura che per me è stata già troppo lunga e complicata lasciamo perdere comunque è una serie non una serie è un film che racconta la storia di queste ragazze che vanno a scuola a noi di loro ce ne frega relativamente ce ne frega un sacco del lip gloss ok io ho già scocciata ve lo dico allora li apriamo che questo so che è la cosa che ci interessa di più a tutti compresa me stessa io ho già scocciata non so manco se guardo il film ve lo dico perché un pippone con queste qua e sento tutti che dicono bellissimo bellissimo però non lo so fatemi un riassunto corto e se l'avete già guardato me l'ho fatto è un riassunto corto corto sì che così capisco se mi piace e poi magari lo recupero sì come a scuola massimo 5 righe massimo 5 righe anche quando andavo a scuola massimo 5 righe che mi scoccio così sono ce la non lo potevano allora ce l'abbiamo uno facciamoli vedere la maestra del make up revolution fai così la prossima volta guarda veloce ok una scatolina con questa apertura che non c'è neanche plastica no perché io lo voglio tenere con tutta la scritta di mean girl ma questo fa schifo se lo tengo no ma io lo tengo ok no non lo so sono combattuta forse tra quei pochi che butto perché vedi ma come devo fare ok così non viene fuori la r mi sto investendo perché è fatta forma di r eeeh sprecavano tutta questa pazienza a fare la forma della r no per fare una scatolina decente che farà bellina pure ok è uscito c'ha il legaccio del tagliaunghie ok è girata la r puro ok così è super toga no è girata vabbè ma come è girata ma prendilo in mano mettila giù con la scatolina che tanto è rotta ok ecco ce la possiamo fare ok questo è proprio pink sarà plumping oltre che pink no c'è scritto lip gloss suoccio sulla mano qua qua tu cosa dici su un foglio di carta bianca ma no ma non è plumping disse la regista che voleva vendicarsi ma fammi leggere dietro leggo velocemente ah giusto no ma dietro c'è scritto solo lip gloss non c'è scritto niente allora vuol dire di no ma su quelli di revolution di solito c'è scritto ce l'ha scritto anche su quelli ah è così pensavo avesse l'applicatore come pensavi con la bacchetta ah no io me l'aspettavo così posso dire non piace ho fatto così io lo volevo con la bacchetta con la bacchetta bacchetta magica boh allora aspettate che mi guarda la R ma adesso tanti li fanno così in questo periodo ammazza è bella la R un bel ciondolo cioè per quelle che si chiamano Roberta se lo mettono in una collana Rebecca che bella è proprio fatta bene è stupenda sì regina ah sarà la R di regina può essere non solo di revolution e di regista e di regista ok ah volevano fare una linea make up dedicata alla regista grazie allora sarà sicuramente trasparente invece no ah invece no qua c'è del pigmento ma lip gloss però è però pigmentato ammazza ammappa dai 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 per la modica cifra di eh non me lo ricordo sinceramente ma come più o meno 3 euro no sarà gi 3 euro ah ok se mi dicevi 15 no no mi sentivo male apro questo abbiamo 3 tipologie trasparente rosato e un po' più nude caldo vero cosa dici sì lo possiamo fare ma io non ho capito perché l'hanno dovuto fare così con la vabbè lo volevi inquadrare da vicino ormai è uguale all'altro c'è scritto regina comunque quindi è la r di regina ma dov'è che è scritto sotto in basso ah eh no ma qua no eh no però adesso ho visto in cui qua c'è scritto karen regina e qua gretchen eh ma allora dovevano fare quelle iniziali diverse oh o no revolution ma che stai a fa e falla la lettera giusta così facevi contente tutte le george e le katy karen katia katusha no ken ok chissà quanti ken erano contenti che pazienza questo sarà trasparente cos'è questa bolla questo lo dovevano riempire cos'è questo ammalo di cassa no questo è il nulla cosmico con i glitter no no guarda c'è glitter rosa ma dai ma è bellissimo ma guardate è super kanji anche due secondi fa hai detto è il nulla cosmico è super kanji invece mi sono innamorata è unicorno è kanji è il mio preferito no davvero mi piace ok non pensavo visto così non avrei scommesso nulla invece così lo vorrei anche un altro lo vorrei anche un altro no ne vorrei anche un altro di scorta bellissimo questo si è feiri vediamo questo che è un po' correttore ed è dedicato a Gretchen ne abbiamo dovuti aprire quasi tre per capirlo ma non importa lo apriamo altri direbbero momento ASMR io invece dico momento nervosismo perché io odio aprire quelli che sono un momento di sofferenza per te che stai rompendo la scatola infatti il segno della vergine si infastidisce tantissimo quando voi non potete capire io me ne rendo conto di come io sono infastidita quando fanno le scatole che si distruggono perché non la voglio rompere no e invece io le ho rotte voi direte ma cosa te ne fai ma che ne so ma mi piace quando c'è la scatola che la posso tenere così non si capisce neanche che è Ming Girl ecco qua ma si ma c'è scritto sopra Ming Girl non è uguale io voglio una scatola ok speriamo che sia un po' con dei riflessi dorati no questo non penso grazie no ma si vede così quanto non penso ma si vede ok si sta già auto spalmando non vogliamo essere tirchi ok ma dai carini chiudiamolo vi lascio giudicare a voi a me profumati si si sa di buono almeno è profumato se li abbiamo pagati vado a controllare il prezzo vi interessa vado a controllare se lo trovo al volo sul sito allora 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 la vostra streghetta corre sul sito ah non abbiamo detto li abbiamo ordinati penso sul sito si di Revolution ok no da altri rivenditori no no c'erano sconti può essere non lo trovo c'erano di sicuro tanti omaggi gli omaggi ci piacciono e come sconto si forse c'era uno sconto tipo del 10 mi pare adesso vado a vedere vado a vedere cosa dovrò cercare eh cerca Ming Girls ok collapse Ming Girls non guardiamo le altre cose 4 euro ah non è molto non è poco per quello rosa e quello trasparente dice ci sono due colorazioni costava 7 euro e 99 ad oggi si può ordinare acquistare a 4 euro quindi metà prezzo e quell'altro non c'è? quell'altro c'è ed è venduto ma come ce ne sono due dice ecco aspettate aspettate ah viene abbinato ok questi due assieme ok vengono presentati oppure questi due assieme perché dice Ming Girls per Revolution Regina George Lip Gloss Clear Shimmer che è quello trasparente che nel caso è infatti invece questo dice Griechen questo ce la possiamo fare Griechen Winner's Lip Gloss Peach e quanto costa? si dice Peach 4 euro Peach pesca pesca ok adesso cerco 3 secondi invece c'è quell'altro rosa mi sto urtando non me lo fa vedere quello rosa ma questi sono tutti così vabbè vabbè no me lo fa vedere nella preview fuori però quando digito mi dice pesca ah ok se no c'è il trio non lo so e non me lo spiego perché li hanno dovuti pubblicare quattro volte comunque ci sono anche a trio che te li presenta tutti assieme insomma te li vogliono far vendere li hanno messi più volte secondo me ok però non vorrei che quello pesca questo qua forse fosse finito perché non lo trovo digitabile e quando l'abbiamo preso era disponibile non c'era neanche scritto ah c'è entrando dentro c'è ed è disponibile e si chiama Mean Words per Revolution Karen Smith Lip Gloss Cherry quindi ciliegia ciliegia clear shimmer gloss pensavo si chiamasse pink quell'altro no peach gloss peach questo no intendevo quell'altro no questo si chiama lip gloss cherry e qua non c'è scritto quindi abbiamo fatto un sacco bene andare a leggere nel sito ok quattro euro l'uno prezzo pieno sette euro e novantanove ok esco perché gli altri non li voglio vedere nel caso la nostra regista li abbia ordinati quattro euro se li vale secondo me sì ma diciamo che attualmente c'è anche da dire che in commercio di altri brand che comunque hanno lip gloss ci arrivano a costare veramente tanto per esempio questo che vabbè è anche plumping è un'altra cosa è zia zia Carlotta no ma intendo proprio lip gloss aspetti così ci abbiamo due colorazioni che non sono plumping questo lo so che zia Carlotta si sta sentendo male adesso per il paragone perdonami sua maestà mi perdoni se oso paragonarla ma qualcuno dobbiamo utilizzare per fare questo paragone quindi questi costano 38 se non sbaglio 35 35 questi 4 ne compro tanti di questi eh sì questi sono quanti ml 10 grammi e qua 5,5 ml di santità di santità di acqua santa perché comunque è un experience che io non lo so che cosa è probabilmente una pozione perché è magica perché io vedo le foto questo è il mio sguardo così quando vedo le foto che scattano sul sito per i prodotti di zia Carlotta ne rimango abbagliata estasiata ipnotizzata e li vorrei comprare tutti ovviamente non li posso comprare tutti se no mi marcisce il dito perché il conto in banca mi va no a piangere se compro tutti i prodotti di zia Carlotta in continuo e quindi devo sempre mettere un budget no quando devono fare l'ordine di zia Carlotta non posso dire no limits ok perché se no mi si blocca la carta però è un experience che ha tutto tondo no prende tutti i sensi è bello e quindi uno almeno nella vita di questi bisogna provarlo però questi per 4 euro da buttare in borsa questo lo buti in borsa se lo perdi piangi si irraschia piangi finisce ti faccia ricomprarlo però lo usiamo ma comunque stavo dicendo che attualmente in commercio ci sono altri lip gloss neanche plumping fatti così a bottiglietta fatti uguale a tubetto ma magari non so più grande così ma che costano anche 25 euro uno eh sì quindi 4 euro cioè in confronto costerebbe 8 quindi conviene comprarlo a metà prezzo sì ok è 8 euro il suo prezzo in ogni caso anche 8 euro è molto poco i colori sono stupendi bellissimi tutti anche questo super cangiante a mo' di unicorno a me piace tantissimo mi dispiace che non sia pieno pieno perché qua c'è una bolla d'aria sinceramente qua siccome è colorato non lo vediamo magari c'è anche di qua le bolle d'aria non lo possiamo sapere comunque 4 euro non è caro è molto bello anche da regalare a Natale perché ha il pendillazzo il charm che si può assolutamente riciclare nello zaino nell'astuccio nelle chiavi nel naso se lo volete appena no è grande nell'orecchia dà fastidio nella collana sì se qualcuno si chiama con la R può metterlo tranquillamente anche con un cordino con una collana un po' non massiccia ma una via di mezzo secondo me è bellino anche come ciondolo nel braccialetto molto carino nella cavigliera no nei lacci delle scarpe sì due uno per scarpa io lo metterei nel laccio delle scarpe fateci sapere nei commenti qual è il più carino per voi allora questo è ciliegia pesca e trasparente con riflessi multicrome e i nomi sono com'era la faccenda Jerry Gretchen no i nomi ah ok 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 Karen non me li ricordo più come li ho tirati fuori qua no ma aspetta allora Gretchen quella è quello in mezzo ok Gretchen poi cavoli e regina mi pare sia regina questo sto pensando al primo che abbiamo aperto boh vabbè eh non me lo ricordo difficile non c'è scritto è un po' fantasia barbari la pancia mi brontola devo andare a fare merenda scusate si mi brontola un sacco il pancino ho fame e quindi detto tutto ciò fateci sapere qual è il vostro preferito qual è il tuo preferito il mio preferito è questo il mio forse è quello in mezzo questo in mezzo ok molto delicato carino da sfumare li proveremo sicuramente tante tante volte e li utilizzeremo anche la regista li utilizzerà perché mi sa che le sono piaciuti tantissimo bene vi lascio le considerazioni se mi ricordo nel box informazioni se non mi ricordo non le lascio perché mi dimentico sempre di lasciare tipo una descrizione un riassuntino fatemi sapere fateci sapere cosa ne pensate se li avete già comprati se li comprerete e se avete preso anche altri prodotti di questa linea forse noi ne abbiamo presi anche altri no spoiler infatti immaginavo che era così cerniera chiusa toccherà aspettare i prossimi video per capire se avremo ancora qualcos'altro di carino della linea Mean Girls speriamo ascoltato sempre io direi che abbiamo detto un sacco di cose la nostra regista vuole aggiungere qualcosina no no mi sa che abbiamo detto tutto perfetto allora e il gioco del cartone animato come era quello di ieri di personaggio avevamo detto Sabrina Sabrina ha recitato nel cartone animato è quasi magia Johnny insieme a Tinetta era la bellissima coprotagonista mora con quei capelli lunghi fluenti quel frangettone di cui Johnny era innamorato dal primo momento ora un personaggio che forse solo alcuni si ricorderanno maia ma di sempre un cartone animato alcuni staranno pensando a una maia alcuni a un'altra maia vediamo chi indovenerà la maia che ho nella testa in questo momento perché ce n'è più di una vediamo nel prossimo episodio scoprirete qual era la maia a cui sto pensando io voi lanciatevi nei commenti la parola segreta di oggi è una r ok proprio scritto una e r scritto in maiuscolo perché è la r che abbiamo trovato qua ok eh sì e l'immoji quello del fiocchetto perché c'è l'ha bisogno del fiocchetto oh si sono incastrate ok si è incastrato il taglia unghie il fiocchetto che c'è qua ok l'immoji del fiocchetto mi sa che abbiamo dato tutto 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 condividete con tutte le amiche e gli amici amanti della serie Mean Girl ma anche di Revolution e del make up in generale e lasciateci un like super infiocchettato se questo video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io c'era mancai a tra cosa come sempre noi vi mandiamo un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video ciao amiche e amici fate le brave e i bravi buona serata e abbiate sempre cura di voi e abbiate sempre